buongiorno da btv news oggi 24 ottobre sant'antonio maria claret e della giornata mondiale dell'organizzazione delle nazioni unite una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno e ricorda l'entrata in vigore dello statuto delle nazioni unite il 24 ottobre 1945 la giornata vuole essere un'occasione per tutti gli stati membri di ricordare quali sono i valori ideali di obiettivi e le sfide che affronta l'organizzazione internazionale e qual è il loro peso sulla qualità della vita dell'interumanità nonostante l'onu celebre ratifica del suo stato del suo statuto sin dal principio solo nel 1948 venne decretata la data del 24 ottobre come festa ufficiale dell'organizzazione ed è stato poi raccomandato a tutti i paesi membri l'adozione della data scelta come festa nazionale al fine di rafforzare lo spirito di unione e internazionalismo insita nel messaggio delle nazioni unite a tutti i paesi membri l'anno